Altro importante appuntamento dell'estate leporanese, l'incontro con Vira Carbone, la presentazione, la discussione sul libro Bellezza da bere, tisane infusi ed estratti per il tuo benessere. Beh, degli argomenti che riguardano anche una evoluzione del nostro benessere fisico e psichico. Sindaco, una serata che parla di argomenti più leggeri ma certamente attuali. Apriamo questa serie di manifestazioni, di incontri più che altro culturali con la nota giornalista da Rai che parlerà chiaramente questa sera del suo libro ed in particolare degli infusi di tutto quello che riguarda la bellezza femminile, il corpo femminile e non solo. Quindi noi siamo molto attenti anche a questi aspetti. Degli aspetti che comunque fanno cultura, perché quando parliamo di cultura benessere rientra nella cultura. La cultura del corpo, la cultura del benessere. Quindi noi siamo attenti e vicini e chiaramente abbiamo organizzato questo incontro in modo che tutti conoscano questi aspetti nuovi che riguardano... Oltretutto con un personaggio di rilievo a livello proprio giornalistico. Stiamo parlando di uno dei massimi esponenti a livello nazionale, comunque una giornalista da Rai che tra poco arriverà e ci allietterà e ci erudirà su questo libro che lei ha scritto. Guardando un po' gli appuntamenti dell'estate leporanese, sabato 15, sabato prossimo, la presenza qui all'eporano del già presidente della Camera, l'onorevole Luciano Violante. Altro incontro importante sul piano culturale dell'onorevole Violante, già presidente della Camera, che chiaramente porterà benefici e saremo onorati di accoglierlo e che ci erudirà su quello che poi chiaramente è il suo libro. È importante che questo avvenga sul nostro territorio. Noi siamo sempre vicini e attenti all'aspetto culturale. Un personaggio che ha fatto anche la storia del nostro Parlamento. Sicuramente sì. Sicuramente sì.